200 anni sta andando che per... non è da capo allora devo farla di nuovo, tutto da capo devi dire tutto questa è una quercia di 200 anni che per costruirci una strada la vogliono buttare giù tanti alberi belli così li fanno vivere per centinaia d'anni e poi gli passa per la testa e le sega va bene è giusto dobbiamo badare al verde perché è qualcosa di nostro che ci fa vivere aria da respirare allora andiamo a beccarci il cartello il cartello lì io sono cavolo c'è scritto la grande quercia è vivo per amare chi vuole amarsi va bene giriamo è un contro luce c'è il sole torniamo indietro e facciamo vedere com'è grossa sta quercia qua tac tutto così grande ok ops il sole la quercia continua qui c'è la cascina e si può andare lì vedere l'altro cartello che c'è scritto facciamo un po' di zoom non si capisce niente non si capisce niente qui c'è la cascina torniamo indietro qui c'è sempre il mio fratello e qui c'è la quercia non c'è un fosso dietro di me che finisco dentro non ancora va bene chiuso